Sesto Fiorentino ha proprio vinto, ma ha vintissimo, ha 48 anni! Ringraziamo tutti per essere qui con noi oggi, è un modo per aver portato, noi cerchiamo di fare tutti insieme il nostro meglio per portare alto il nome della nostra città, della città che ci ospita e ringraziamo il Sindaco per il che ci ha ospitato anche oggi come sempre, qui per cui un applauso è sempre. Grazie anche a Sonia Tarese senza la quale non sarei stata molto. Noi cerchiamo di portare il nome della città, i risultati ci sono. Grazie a tutti voi, bravo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Gloria Bernazzi, per aver catalogato con certosina pazienza posso testimoniare decine di scaffali della libreria rinascita, archiviandoli diligentemente nel suo prezioso iPhone e diventando essa stessa un database vivente, da fare invidia alla CIA nell'assoluta evidenza che tecnologia e cultura letteraria sono ormai un binomio indissolubile. Grazie a tutti! 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 Per aver assimilato in modo egregio la soffia a metà del libro, sviscerandone i contenuti fino ad andare oltre alle più inconsapevoli e inconfessabili intenzioni mai nemmeno lontanamente immaginate dall'autore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Per aver assimilato con caparbe a determinazione quantitativi esorbitanti di titoli ed autonistiche per poi captare con rara abilità obiettiva un anonimo luica di un notissimo unistico procalzando alla rica Sara delle sue più memorabili figuracce. Per aver assimilato ogni singola parola del suo mezzolibro districandosi con imperturbabile grazia tra originali tecniche di suicidio e diabolici piani omicidi senza mai perdere la sua carna olimpica. per aver ammaliato i componenti maschili della squadra avversaria ottenendo l'encomiabile risultato di distrarli fino a far perdere loro la concentrazione necessaria ad affrontare le problemi. Per essere riuscita a conseguire l'obiettivo da lei desiderato di non essere intervistata il titolo del proprio libro così bene da evitare di farlo notare all'implacabile professoressa Pimenti. per aver assimilato con impegno ed entusiasmo migliaia di autori e altre tante opere della letteratura mondiale di tutti i serpi per poi sentirsi chiedere un titolo semisconosciuto praticamente irriconoscibile. per aver partecipato benché inizialmente riluttante ed essersi divertita al punto da voler sfoggiare un make up insolito per lei ma molto telegenico per aver fermato davanti a testimoni che avrebbe fatto il tipo per noi e di fronte all'evidenza che anche lui era nella squadra aver sostenuto irrazionalmente che il suo era solo un supporto morale ma intanto si era diligentemente imparato a memoria le sue pagine esclusa la parola millantatore di cui ancora oggi crediamo ignorisi di tutti i serpi applausi 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 per avere di un colpo abbandonato ogni rimpianto di non aver frequentato il liceo classico vedendo chiaramente che le risorse poliettiche di uno studente del liceo linguistico superano di gran lunga e senza ombra di dubbio qualsiasi altro corso di studi e risultano essenziali nell'affrontare le situazioni che richiedono prontezza coraggio e apertura verso il futuro applausi 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 per aver scandagliato con accurata solenza gli scaffali della libreria di nascita alla ricerca dei testi più improbabili e per essersi addentrata con indomito coraggio nei misteri delle ultime estenuanti pagine del romanzo di Chiara pur avendo nettamente preferito le pareti a specchio nella sala prove dell'Arabi applausi 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 anche Francesca Alvano che è l'edettrice dell'Arabiati applausi applausi Grazie.